Allora parliamo un po' degli strumenti per proteggere i propri risparmi, ad esempio in caso di pignoramento del conto corrente, in caso di pignoramento della casa o in caso di pignoramento di altri beni. Pignoramenti che possono arrivare da creditori di qualsiasi natura, banche, fisco o altro. Parliamo di fondi patrimoniale, parliamo di polizia vita, fondi pensione, proviamo a menzionare anche l'assegno circolare, il trust, la holding, la donazione, il vincolo di destinazione, facciamo un punto complessivo all'interno di un unico video. Considera però che ogni strumento andrebbe analizzato da situazione a situazione, se sei un'impresa, sei un single, sei una famiglia, una persona fisica e via discorrendo. Inoltre bisogna aggiungere che non tutti gli strumenti sono efficaci per andare a proteggere il proprio patrimonio, i propri risparmi. Questo perché? Perché la legge prevede, ovviamente, in alcune circostanze, di tutelare quelli che sono gli interessi del creditore. Come? Tramite l'azione revocatoria che il creditore può attivare. Cos'è l'azione revocatoria? Un'azione, appunto, che il creditore può attivare per cancellare, diciamo così, quelli che sono gli strumenti che tu hai attivato per proteggere i tuoi risparmi. Quindi seguimi bene. E se vuoi approfondire questo tema, come altri temi, direttamente con me, ti lascio qui in descrizione il link per accedere a un nuovo gruppo di confronto, chiamiamolo così, più gruppi di confronto che abbiamo attivato per varie tematiche con un abbonamento di quattro mesi. Detto questo, partiamo. Partiamo dal fondo patrimoniale, uno strumento che spesso e volentieri viene ignorato dai giudici in tribunale. Giudici che sono chiamati a tutelare quelli che sono gli interessi del creditore, quindi della banca, a cui devi dei soldi, all'agenzia di entrate e via discorrendo. Perché? Perché di questo strumento se n'è abusato negli anni, quindi è necessario chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto diciamoci chiaramente che il fondo patrimoniale non è altro che un atto che si stipula davanti a un notaio, il costo si aggira intorno ai 1500-2005 al massimo ed è un vero e proprio atto che viene redatto dal notaio in cui si vanno a scrivere tutta una serie di cose. Ora, se il debito nasce per far fronte ai bisogni della famiglia, non c'è fondo patrimoniale o strumento che tenga perché i beni sono ignorabili. Cioè, se sottoscrivo un mutuo, non è che vado a mettere nel fondo patrimoniale l'immobile che è soggetto a questa obbligazione, al pagamento delle rate del mutuo e mi salvo se non pago il mutuo. Non funziona così. Oltretutto, per poter costituire un fondo patrimoniale è necessario essere sposati o essere una coppia legata da un'unione civile. Quindi niente coppie di fatto, niente singoli. Detto questo, se invece i debiti nascono fuori dalla sfera familiare, nascono per far fronte ad esigenze, ad esempio, imprenditoriali, che ripeto, non hanno niente a che fare con l'immobile di proprietà che tu condividi con la tua famiglia, allora il discorso cambia. Ma anche qui il confine è sottile. Cioè, se la sfera imprenditoriale, intendiamo, io ho sottoscritto un debito perché ho una gelateria, un'attività di ristorazione, insomma, una qualsiasi attività, che porta a casa la pagnotta per la famiglia, quindi quel debito, sì, mi è servito per l'attività, ma in realtà mi serve per poter far fronte a quelle che sono le esigenze della mia attività al fine di far mangiare e portare avanti la mia famiglia. Ecco, in questo caso il fondo patrimoniale non ti tutela. Quindi quando intendo debiti sottoscritti da un'attività imprenditoriale, devono essere proprio investimenti all'interno di una società, che non hanno a che fare, non hanno nulla a che fare con gli interessi della famiglia. Bisogna fare molta attenzione, perché, ripeto, se ne è abusato tantissimo, costa poco, vado dal notario, 1.500, 2.000 euro, me la cavo, faccio un fondo patrimoniale, poi arrivo davanti a un giudice, nel momento in cui ho dei problemi, e il giudice mi smonta il fondo patrimoniale. O persino, in taluna di circostanze è capitato, me lo ignora completamente, perché quando si abusa e i giudici vedono di continuo questi fondi patrimoniali, a un certo punto poi, insomma, li ignorano, e poi dopo aspetta a te, evidentemente, attivare un'ulteriore causa per far valere, se ci sono le condizioni, questo fondo patrimoniale. Bene, passiamo alle polizze a vita. Ora, l'articolo 1923 del Codice Civile stabilisce che le polizze a vita, o perlomeno l'accumulo del capitale all'interno di una polizia, non è pignorabile. Ripeto, il Codice Civile vieta espressamente e categoricamente ai creditori di poter pignorare il capitale accumulato o rendita all'interno di una polizia a vita. purché sia una polizia a vita, non che sia un qualche strumento di investimento finanziario o una qualsiasi altra polizia, no, la polizia a vita, chiaro, bene. Passiamo ai fondi pensione o fondi pensionistici. Anche questi fondi pensione, fondi pensionistici, non possono essere pignorati, ma facciamo attenzione, perché questo riguarda solo il capitale anche qui in accumulo che vado a versare le somme che vado ad accantonare all'interno del fondo pensione. Ora però c'è da aggiungere una cosa, perché nel momento in cui l'assicurato va a riscattare la polizza, se la deve far accreditare da qualche parte, se la fa accreditare sul conto corrente. Ebbene, quella somma che arriva sul conto corrente è evidente che può essere pignorato. Quindi non è pignorato in sé il fondo pensione o la pensione e i vari accumuli che tu vai a fare. Viene ha pignorato la somma riscattata, a meno che ovviamente non vai ad indicare un conto corrente differente da quello che hai indicato quando hai sottoscritto il fondo pensione. Cioè sai, meno male, che quel conto corrente è attenzionato dal creditore, potrebbe essere pignorato e invece di farti accreditare la somma su quel conto corrente te lo fai accreditare dall'altra parte. Bene, passiamo ora al mitico assegno circolare. L'assegno circolare, come ho più volte ripetuto all'interno di questo canale, sono contanti in mano. Cioè di fatto tu puoi avere in mano un assegno circolare se con dei contanti ti rivolgi in banca, vai lì, depositi e dici mi emetti un assegno circolare oppure hai dei soldi già depositati sul tuo conto corrente e nel momento in cui, ipotizziamo che tu hai sul conto corrente 10.000 euro, vai in banca e dici voglio un assegno circolare intestato a chi vuoi te, perché vuoi essere intestato pure al debitore, per assurdo, ok, bene. Nel momento in cui vai in banca, dici voglio un assegno circolare di quei 10.000 euro che sono depositati. Ti fanno un assegno circolare, quello è contante in mano. Cosa vuol dire? Che sul conto corrente risulterà zero. Ci siamo? Ho 100.000 euro sul conto corrente? Mi fai un assegno circolare intestato a mia moglie, a mio figlio, a quell'azienda, al debitore? Perché non cambia niente. Ripeto, nessuno sa nulla dell'assegno circolare e neanche il debitore lo può sapere. A meno che non prendi l'assegno circolare e glielo porti al debitore e poi lo incassa. Ovviamente è per fare una battuta, no? Bene. L'assegno circolare che ti rilasciano ha 100.000 euro segnati e nel conto corrente non ci sono più i soldi. Il conto corrente è stato così svuotato, di fatto. Inoltre, bisognerebbe ricordarsi che entro tre anni, al limite dei tre anni, va rinnovato. Ma la cosa importante all'interno di questo video è che tu memorizzi che dell'assegno circolare il creditore non ne può sapere nulla. Ora passiamo al trust. Di che cosa si tratta? Come funziona? Di fatto il trust ha lo scopo di divenire, di essere una fiduciaria. Una fiduciaria copre i nominativi dei proprietari di... Entriamo nel merito. Il trust è uno strumento dove a cui intestare case, terreni, metterci dentro dei soldi, titoli, azioni, quello che ti pare. Ma tutto intestato ad un soggetto fiduciario che ha il compito di amministrarli. Questo soggetto si chiama trustee, che è l'amministratore. I beni messi nel trust devono essere amministrati a beneficio di qualcuno, che puoi essere anche tu, che sei il disponente dei beni che metti all'interno del trust insieme magari a qualcun altro, la famiglia, i figli. E l'amministratore, il trustee, li amministra per gli scopi che sono indicati all'interno del trust. Una volta finiti gli scopi, il proprietario può tornare in possesso dei suoi obiettivi. Scusate, obiettivi. Una volta raggiunto l'obiettivo di protezione, volevo dire, il proprietario può tornare in possesso dei propri beni. All'interno del trust si indica la durata. È un po' come le società. All'interno delle società la durata, il termine della società, viene indicata in 50 anni, 99 anni. E la stessa cosa si può fare all'interno del trust. E allora, perché i beni all'interno del trust non possono essere ignorati? Perché non sono più intestati a te. Sono di fatto intestati al trustee. Quindi, anche la holding ha questa funzione. Nel momento in cui io vado a conferire dei beni all'interno di una società, holding vuol dire detenere quote, ok, in questo caso specifico, quei beni vengono tutelati, messi al riparo all'interno di una struttura societaria che non ha evidenti, non deve avere evidenti problemi perché se non verrebbe attaccata di conseguenza anche la holding stessa. Quindi di fatto si dice che non deve lavorare, deve semplicemente detenere una società che detenga il patrimonio di una famiglia, che può essere una società semplice o può essere una holding SRL. Anche qui andrebbe poi approfondito, ma la cosa importante di entrambi questi tipi di strumenti è la revocatoria, cioè questi strumenti andrebbero attivati prima del sorgere del problema, perché la tutela del patrimonio, la protezione, la si fa prima. Non si va dal dentista quando ormai c'è le carie, no. Vai prima a fare la pulizia dei denti, a farti controllare per prevenire eventuali carie. Ecco, la protezione, la tutela del patrimonio andrebbe attivata prima, ma nel momento in cui si attiva dopo devi sapere che il creditore ha 5 anni, come dicevamo all'inizio, per revocare l'atto di trust o di holding che tu sei andato a costituire, quindi smontarlo di fatto e ritornare, quegli immobili ritornano di nuovo a te, quindi possono essere immobili o denaro, quello che viene conferito può essere ignorato. Considera che il trust e la holding hanno dei costi, il trust di più della holding, hanno dei costi non solo nella fase di attivazione, ma anche nella fase di gestione del patrimonio nel tempo, perché hanno della contabilità da portare avanti, un commercialista da pagare, in alcuni casi va anche remunerato, nel caso del trust, il trustee, perché a meno che non fai un trust fatto in casa dove il trustee sono persone di tua fiducia, i trustee professionali hanno dei costi. Questi due strumenti sono strumenti che vanno attivati per tempo, non fosse altro perché affronti un costo, e soprattutto convengono di fronte a grandi patrimoni, grandi liquidità, grande possesso di titoli, di immobili, di terreni, case, qualche sia, uffici, ma vale, attenzione, sempre la revocatoria, come ti ho detto poc'anzi, e la revocatoria vale anche nel caso di una donazione. Spesso e volentieri si fa la donazione al figlio, alla moglie, al parente, all'amico dell'amico, ma anche quella donazione può essere revocata entro 5 anni. Poi abbiamo il vincolo di destinazione, che di norma viene attivato quando in famiglia ci sono problemi di disabili, ci sono, fanno parte dei familiari, dei disabili. Quindi il vincolo di destinazione permette di destinare determinati immobili a dei familiari con il fine di tutelare gli interessi del figlio, ad esempio, disabile. Ma anche questo strumento qui è revocabile, cioè se lo costruisco o così può essere revocato. Ora passiamo all'ultimo punto, che è il pignoramento del conto corrente. Ora, chi ha una partita IVA o una società, bene o male, se la può cavare. Innanzitutto utilizzando uno degli strumenti, uno proprio, tanto per dire, appena citati. Oltretutto, nel caso in cui la società o la partita IVA fosse ricercata, attenzionata dal fisco o da altri creditori che non siano le banche, devi sapere che per una partita IVA o una società che ha un fido, il fido, l'affidamento di conto corrente, l'apertura di credito in conto corrente, non è pignorabile. Detto questo, si può, fino a provo a entrare, aprire anche un conto corrente estero. Ora, a questo punto è necessario, sì, hai una partita IVA italiana, con una società italiana puoi aprire un conto corrente estero, con tanto di posto, tanto di conto corrente, per ricevere incassi della tua attività. Ce ne sono varie sul web che offrono questi tipi di servizi. Su questo, però, dicevo, va specificata una cosa, perché è già attivo, non da tantissimo, e non funziona, non è che venga attivato chissà quanto dai vari avvocati in questo momento. Adesso vi spiego perché. È già attivo il decreto ingiuntivo europeo, che facilita, scusate, la possibilità di accedere, insomma, andare a cercare il debitore. Ma mancando l'anagrafe dei conto correnti europea, esiste l'anagrafe dei conto correnti, la banca data dei conto correnti italiana, ma non esiste ancora l'anagrafe dei conto correnti europea, è molto difficile per il creditore attivarsi con un decreto ingiuntivo europeo se non sa, insomma, dov'è che si deve attivare, no? Cioè, sto conto corrente online, l'ho aperto per la partita IVA o per la società, dove l'ho aperto? In Francia, in Germania? Come faccio a consultare e a capire che lì ci potrebbe essere una disponibilità e quindi poi dopo andare a fare... Si può fare, ma si rischia per il creditore di fare un buco nell'accio. Dovrebbe farlo in tutti i paesi europei, così. Vedete un attimo dove ci prende, a intenderci. Bene, ora, per quanto riguarda invece le persone fisiche, parliamo di stipendi e pensioni, devi sapere che per la legge non sono pignorabili tre volte l'assegno circolare. L'assegno circolare è pari a 503,27 euro per 3 fa 1.509,81. Facciamo un esempio. Riceve uno stipendio di 2.000 euro fino a 1.509,81. Non può essere pignorato. Tutto quello che è sopra, 400 e rotti euro, può essere pignorato. Così funziona. Quindi va da sé. La morale è che se voglio vedere, evitare il pignoramento di 400 in surplus ai 1.509,81, devo prelevarli di volta in volta o attivare uno degli altri strumenti che abbiamo indicato all'interno di questo video, soprattutto se si hanno risparmi, anche come persona fisica, importanti all'interno del conto corrente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.